Convocato per martedì alle ore 18 il Consiglio Comunale di Battipaglia. Otto i punti all'ordine del giorno. Fra questi la mozione presentata dal gruppo Avanti Battipaglia, nella quale si chiede la devoluzione in beneficenza alle politiche sociali del Comune dell'indennità di presenza della seduta di Consiglio del 6 dicembre. A seguire una variazione di bilancio, la revisione periodica delle partecipate del Comune e ben tre debiti fuori bilancio relativi ad altrettante sentenze per un totale di 55.000 euro. Come di consueto la seduta verrà trasmessa in diretta da Sud TV.